La provincia regionale di Caltanissetta partecipa ad un avviso pubblico emanato dalla regione siciliana per interventi di edilizia scolastica in relazione ad una delle delibere del Cipe che finanzia i lavori di manutenzione nelle scuole di competenza degli enti locali. Nello specifico, l'Ufficio Tecnico Provinciale ha redatto un progetto per lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio sede del convitto presso l'Istituto Agrario e per i servizi alberghieri senatore di Rocco di Caltanissetta. Si tratta di un progetto del complessivo importo di 100.000 euro che è stato approvato con delibera commissariale e che sia auspica possa essere ammesso al finanziamento. Gli interventi riguarderanno il ripristino dei prospetti esterni dell'edificio che versano in stato di degra.